Ciao ragazzi, oggi andremo a dare un'occhiata alla 8x10 SE2 in Iroko e visto che ci siamo facciamo anche un in-boxing, così, dato che questa cosa ne penso di aver inventato io, nella sua super scatolona di legno. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio laboratorio, siamo qui a Pistoia, in Toscana, io sono Samuele e sono il fondatore del Tuttofale di Stenopei a fotocamere ed accessori per il grande formato. Le caratteristiche tecniche di questa macchina sono le medesime della versione in cipresso con il quale ho fatto la presentazione ufficiale, quindi oggi diciamo che andremo soltanto a vedere un attimino quella che è una delle configurazioni, esteticamente parlando, delle configurazioni classiche, cioè legno di Iroko e macchiatura in te, essendo molto elegante. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!